L'Orella Cuccarini al festival di Sanremo nel nostro corpo di bello! Grazie, grazie, grazie! Grazie ragazzi! Grazie a Luca Tommasini, grazie a Luca Tommasini, hai visto che bello? Scusami, bellissima, lui l'ho già visto da qualche parte lui. Allora, lui assomiglia un po' a quello che diciamo noi, però non so, perché non è quello che penso io, non so io, non ti si può guardare, por favore, non ti si può guardare, sei truccatissimo! Perdona, 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 perdona L'Orella, noi abbiamo ballato tantissimo! Io ho fatto una fatica, guarda, ti giuro! Por favore, allora la prima cosa che voglio dire è che non vedo la liberatoria! Ma non per il ballo che è bonito, ma per lo scaviglio! No, ma sei bellissimo! Mi chiamo Manuel Frangio, e ti posso dire una cosa? Sì! Ho una sensazione di calore che parte da sopra e arriva da sotto, ma ti devo raccontare, per l'Orella che conosciamo da... Da da 5! Da da 5! Per mettere questa maglia e affinché questa maglia non esca dal pantalone, che hanno avuto un'idea fantastica! Che cosa? Quale? Ti spiego, ti spiego! Questo, amico, sese, amica, signora, sese, signorita, questo è un elastico montato da qui che parte e va da sotto, poi fa il giro da sopra e la meraviglia, la sensazione, lo sai di cosa? È una sensazione di divisione! Ma si usa, eh? Si usa! Si usa! Fiori! 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 Io ti chiedo molto, e per ricordarvi, la lasagna 30 ne abbiamo fatto del cote e del crude. Sai che quando parlo sembra un po' il papa! piano piano ti sta trasformando puoi tengo gente di fuori io tengo un glass e devo trabacare l'aristonello questa noce sono sicuro che tu mi darai la linea a quello a fiorello a florecito pequeño piccolo fiore tu darai la linea forse allo 3 no 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 prima ok allora io vado mi guadagno l'uscita perché la serata è tutta della più amata dagli italiani mi capita più di ballare con fiore e con la madonna a dopo posso dire solo una cosa adesso lui tutta la sera fa sto passo ho capito vabbè salutiamolo ciao Manuel ciao manuel